gentili telespettatori buona giornata il giornale di centrodestra un quotidiano di centrodestra scrive che fiorello smonta le polemiche sul 25 aprile meloni l'ha detto in realtà il titolo non corrisponde al vero fiorello non smonta le polemiche meloni l'ha detto no fiorello e anche oggi fa delle battute che fanno il gioco della sinistra quali qual è questa battuta adesso ve la racconto se ti è la trasmissione viva rai 2 di fiorello in questo show mattutino si parla della festa della liberazione e dice così meloni ha detto la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della libertà ha usato la parola fascismo dice fiorello bene adesso manca solo anti e siamo a posto giorgia lo so tutto in una volta non si può dire salvini invece ha detto il governo è antifascista dopo queste frasi è arrivato il 118 dice fiorello ha preso la russa che era svenuto l'hanno dovuto portare via in ambulanza ovviamente sta scherzando allora dice poi fiorello banda cittadina non suona bella ciao intervengono i vigili per farla eseguire una notizia che legge gli agenti sono andati lì hanno chiesto patente libretto e spartito si torna a parlare anche poi del generale vannacci dice fiorello proprio ieri è stato candidato dalla lega in tutti i collegi per l'occasione ha scritto un libro su strasburgo dal titolo i francesi sono tutti ecco con prefazione di carla bruni poi a giù parla anche su su venezia dice sapete che sono mezzo veneziano dice fiorello la città veneta infatti riempie anche con il ticket in 15 mila hanno pagato 5 euro per l'ingresso c'è però anche un gruppo di esentati i veneti chi ha parenti veneti i fan di maravenier i bevitori di spritz i piccioni anche chi ha parenti piccioni tutti questi non pagano praticamente hanno pagato 15 mila su 100 mila persone in tutto dice 15 mila per 5 per 5 sono 75 mila euro a cosa servono a venezia con 75 mila euro ci fai l'aperitivo in piazza san marco va bene a parte l'ironia voi come come avete notato l'ironia diventa non più su persone singole diventa in generale parlo di venezia parlo del ticket perché con il politicamente corretto se tu fai ironia sulle persone sei fuori strada quindi oggi il politicamente corretto ti dice fai ironia ma non sulle persone perché di qua e perché di là e così fiorello fa ironia in termini generici commentando delle notizie che non parlano proprio di persone però per quanto riguarda i politici si può ancora ironizzare perché il politicamente corretto quando si prende in giro un politico il politicamente corretto si gira dall'altra parte per il momento quindi se voi prendete questo giornale di centrodestra e leggete il titolo fiorello smonta le polemiche sul 25 aprile meloni l'ha detto è un'interpretazione forviante perché poi quando leggete l'articolo vi rendete conto che fiorello sta prendendo in giro la meloni su un qualcosa su cui insiste la sinistra tutti i giorni la meloni non si dichiara antifascista ecco quindi anche fiorello si accoda e fa dell'ironia proprio pungente nel senso che non è propriamente un commento pro meloni ma è un commento contro meloni camuffato da sarcasmo ironia perché dire finalmente la meloni ha detto la parola fascismo adesso manca solo anti l'altro giorno diceva che la meloni ha preso degli appuntamenti con il logopedista per riuscire diceva fiorello prima del 25 aprile a pronunciare la parola antifascista quindi è una vera e propria presa in giro su un tema politico che la su cui la sinistra ci sta costruendo tutta la campagna elettorale sulla meloni che non dice anti sono antifascista ecco quindi su un tema sul quale la sinistra ha costruito e ci costruisce tutta la sua campagna elettorale fiorello dicendo questo ogni giorno non fa altro che alimentare e sostenere la campagna elettorale della sinistra per questo che l'altro giorno vi scrivevo ecco di nuovo l'attacco di fiorello tra parentesi l'amico di giorgia perché i due sarebbero gli utilizzo sempre il condizionale i due sarebbero amici perché la meloni quando era piccola giovane andava a fare la babysitter a casa di fiorello ecco quindi si conoscono da tempo ma diciamo che anche questo tra virgolette amico è un amico un po come tra virgolette appunto sulla carta è un amico ma nei fatti se ogni giorno ti 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 fa la battuta contro diventi alla fine come crozza sulla sette che dietro le battute prende fortemente in giro meloni e salvini quando fa le imitazioni di salvini e meloni dentro quelle imitazioni c'è molta politica molte cose serie all'interno perché non è solo l'imitazione ma dentro quell'imitazione lui crozza fa dire a meloni e salvini fa vedere alcuni atteggiamenti alcune cose quindi spesso dietro la satira si fa politica dietro quella tra parentesi comicità si fa politica e come perché se tu la mattina dici a un certo numero a centinaia di migliaia di persone a la meloni ha detto fascista manca solo anti dai che ci manca poco stai praticamente dicendo ai tuoi ascoltatori o telespettatori che la meloni non riesce a dire antifascismo che dai che ci manca poco e chissà perché non lo dice perché lo è ecco sapete che e boom e boom e boom se tu tutti i giorni continui a dire la stessa cosa poi quella cosa dopo un po di tempo diventa una mezza verità e poi col tempo diventa una verità grazie a tutti per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie grazie